Allora raga mi dispiace un casino ma lo sapevo che essendo che la data era la piscina delle rose all'aperto domani piove quindi la data di domani è posticipata il 23 settembre a Cerea allora ovviamente la data del 23 settembre a Verona Cerea alla corte degli angeli la location sarà chiuso quindi questa volta se Dio vuole suoniamo la testa di Dio wow professore 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 oh io faccio qualche foto che Cristian va bene si si diventa male libertà da cinque giorni tornati in strada oh yes ecco un classico esempio di scarpe da pusher e bici da pusher oh yes l'ultimo dei moicani il primo dei moicani vai da army stasera 10.30 siamo sul palco quindi non mancare mai ma no 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 ne ecco qua il mio manager, solo bombe si, che caldo che caldo, solo caldo solo caldo si, mister manager si 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 super prof prof della strada si si si